E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Stamani è anche il mondo della scuola, l'inaugurazione della mostra multimediale. Qual è la vostra curiosità? Beh, sicuramente sapere qualcosa in più riguardo quella che è la cultura che caratterizza il nostro territorio. Quindi comunque questa mostra è importante perché ci mostra in effetti quelle che sono le bellezze che abbiamo nel nostro paese, quindi nella nostra zona, quindi penso che sia comunque importante essere a conoscenza di ciò che caratterizza il nostro territorio. E' un elemento fondamentale che appunto crea una sorta di paragone tra noi e gli altri grandi centri che hanno a disposizione queste scoperte. Siamo comunque molto curiosi di vedere questa mostra multimediale perché può essere di fondamentale importanza per noi studenti per scoprire appunto cose nuove anche che riguardano il nostro territorio, ovvero la Valle Caudino. E' importante perché la scuola di Montesarchio, in particolare il Fermi di Montesarchio, è sempre presente alle manifestazioni culturali, artistiche e storiche del nostro territorio. E siamo qui ancora una volta per poter essere vicini a questo territorio e dare il nostro contributo storico e culturale. Grazie.